Gruppo Italia SRL, via Andrea Costa 111, Sant'Arcangelo di Romagna Con Mr. Vergoni al termine della partita contro il Vistor Conca, nonostante il gol nel finale, una sconfitta pesante quest'oggi qui a Cattolica Sì, più che pesante, meritata, quindi credo che delle precedenti due questa sia l'unica meritata Quindi mi lascia un po' con la mare in bocca perché non siamo mai stati in partita né nel primo tempo né nel secondo Anche se nel primo tempo avevi concluso sotto 1-0 avendo preso un gol su calcio piazzato però non siamo mai stati in partita Abbiamo avuto tante difficoltà e secondo me anche la condizione fisica diciamo che non era ottimale dopo la partita di Coppa E visti un po' gli infortuni che abbiamo siamo riusciti a cambiare poco Non vorrei forse una scusa però potrebbe aver inciso Ecco, cosa serve magari al Tor Conca per riuscire a uscire da questa situazione un po' di negatività? Ma guarda sì, sì perché veniamo da due sconfitte consecutive mentre domenica scorsa Pietracuta secondo me è stata meritata Abbiamo regalato troppo, oggi invece è stata meritata Solitamente io sono abituato a uscire da queste situazioni lavorando quindi sicuramente tanto lavoro E continuo a dire come due settimane fa spero di riuscire a recuperare ancora più giocatori per la prossima Grazie 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 a tutti.